L'amministrazione comunale di Montesano sulla Marcellana guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi intende ampliare il centro urbano. Lo si apprende da una delibera di giunta comunale pubblicata sull'albopretorio del comune. Tenendo conto si legge sul documento che la delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici e tenendo presente che il numero di almeno 25 fabbricati con accesso veicolare o pedonale previsti dal codice della strada e comunque subordinato alla caratteristica principale di raggruppamento continuo, nasce quindi l'idea di ampliare il centro urbano. I fabbricati, spiega la delibera, devono essere in relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati. La necessità di ampliare il centro urbano di Montesano viene dettata dalla volontà dell'amministrazione di garantire una maggiore comunicazione ed educazione finalizzata alla crescita della consapevolezza nei cittadini, nonché volta ad un adeguato sistema di monitoraggio che permetta la valutazione negli anni degli effetti del provvedimento e anche successive ottimizzazioni. Inoltre l'ampliamento verrà effettuato per parti di territorio che costituiscono non solo un raggruppamento di fabbricati ma anche strade di collegamento caratterizzate dalla percorrenza di veicoli e dalla presenza di attività commerciali. Sarà aggiornata la cartografia del territorio. La zona che subirà l'ampliamento urbano, si specifica infine nel documento, sarà la frazione scalo del Paese. Grazie. Grazie.